Datemi una leva e vi solleverò il mondo. Questa è una frase che ha detto già Archimede ai tempi, quando capì cosa fossero le leve appunto. Esso infatti aiutavano e agevolavano l'utilizzo frequente dell'uomo di caricare e scaricare oggetti pesanti e ovviamente per agevolarlo in tutte queste operazioni. Il progetto Quiddis, com'è stato e cosa significa fare una lezione con Quiddis? Grazie a Quiddis comunque ci siamo lo stesso divertiti, ma nel nostro progetto in particolare abbiamo imparato ad osservare la realtà con le leve nel corpo, ma anche che usiamo normalmente. Abbiamo imparato anche a collaborare insieme come classe e a migliorarci nei nostri punti deboli. Cosa pensi di una lezione digitale? A cosa serve? Cosa dà di più a una lezione del libro, una lezione frontale con la prof che spiega e basta? Una lezione digitale è molto più spiegata meglio perché si capiscono le cose in maniera diversa e questo favorisce all'alunno una miglior comprensione ed è stato molto bello anche perché avevamo studiato prima sul libro ma poi facendo la lezione digitale abbiamo capito cose diverse ed è stato un altro metodo di insegnamento. Quindi immagine, creatività e originalità.